Ogni volta che riesco a girare una clip qualcosa va storto Ho perso la coincidenza col volo per la Turchia quindi passerò la notte qui E un viaggio di 9 ore si è trasformato in un viaggio di 30 ore e due giorni senza sonno Sto andando in Turchia a raggiungere Fabrizia e un gruppo di nostri amici con i quali abbiamo affittato una barca Taxi E' stato il viaggio più lungo della mia vita Però Ne è valsa la pena Ben arrivato Ma veramente tutta per noi Grande Andrea Andrea piacere Devo dire che l'accoglienza è stata niente male Grazie Giorno 1 in Turchia La situazione è questa Stamattina abbiamo fatto un po' di movita Sembra di stare in una puntata di riccanza Posso chiederti un passaggio E' un grande Sei veramente un grande Andrea è un altro personaggio che ci mancava Che succede? La situazione è un po' calda diciamo Il nostro equipaggio sta litigando con quelli della barca a fianco Mi sa che il problema siamo noi Che mettiamo la musica troppo alta E' come dargli torto E' come dargli torto E' come dargli Grazie a tutti.